Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Tomb Raider con il Metacraft. No, il filo... Scusate che si è inviato il filo del controller, ok, niente, niente. Perfetto, eravamo che non mi ricordo quello, comunque. Ah, ecco, sì, sì. Doviamo scappare, ma allora, insomma, dobbiamo raggiungere l'otto comunque. Come ci riprendiamo? Non abbiamo niente, non abbiamo munizione, non abbiamo niente proprio. Mi sembra che non ci sia nessuno però. Non ci siamo. Vai, non ci siamo. Ok, ok, ok. Devo sperare che quando stava sì. Vai, 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 vai. Perfetto. Ok. Trelex per debbredare il cadavere nei nemici. Dei nemici, ok, ok. Ok. Andi qua? Sto volendo, quindi credo che dovremmo andare per forza di qua. Vai, 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 vai. Ok. Ok. No, 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 no. Uh! No! Guarda che bussica! Ok, ok. Forse non l'arrembazio. Muoviti, muoviti. Ok. Ok, ok, ok. Vai, vai, vai. Ok. Ok. Guarda lì. Perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Niente. Ok. Allora, continuiamo. Siamo scappati da lì, c'è qua, non mi? Ma se io lo faccio così, si distraggono? Sì, 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 sì. Ok, andiamoci. Consoliamo. Ok, sì, sì, tutto bene. L'importante, ok. Ok. Lara, mi senti? Sì. Ok. Vedo del fumo che si alza dalle rovine, stai bene? Oddio, sono neguaglia, ammazzano la gente. Affatti! Uomo, non so perché, ne ho uccise alcuni, mi hanno avuto scelta. Infatti. Io invece non so quanto. Ok. Ma qui si può scendere? Ma qui c'è una fessura, ok. Ok. Ah, ma non si può fiammare? Poi si può scendere tutto. Vabbè, noi terminiamo solo così. Che cosa? Ah, no, no, becco. Come quella che abbiamo trovato lì nella foresta, quando stavamo raggiungendo Wittman, quello che abbiamo trovato lì nella foresta, quando stavamo raggiungendo Wittman. Ok. 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 Qua cosa c'è? Ah, quel libro è dei materiali. Allora, vediamo se... Allora, questo era il diario di Mattias. Anni fa anche lui la proposte sull'isola, che si era lo stesso Mattias che era con Sam. Ah, quindi praticamente era il diario di un certo Mattias, no? E quindi Lara, pensa, si era quello con Sam. Però, dove saranno andati, scusa, in quel lato in testa? Potevano restare lì con Lara e aspettare che si svegliasse. Ah, ecco, distrai. Scoppa le frecce contro i nudi vicini ai nemici per distrarli. Ah, l'abbiamo fatta anche io e prima. Allora, via. Ok. 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 Non si è accorto? Perché se no... Non so che succedeva, ma dovremmo... Anzi, sicuro che dovremmo ucciderle. A me non mi andava. Ok. Ah, è qua. Ok. No, niente. Ok. Cosa c'è? Oh, materiali? Ah, che saranno queste? Bacche? Non so. Vabbè, teniamo le bacche. Ok. Niente. Vediamo questo. Andiamo. Ok. Vediamo. Vabbè, vediamo qua. Ah, sa che stanno parlando di loro. Non vuole insinuare, ma... non puoi insinuare, ma... a me sa che stanno venendo di qua, eh. Ok. Non so che stanno venendo di qua, eh. Cosa facciamo? Ulsite fruttivamente premendo in questo modo uccitato il mio amico. Ah, bello. Ok. Quanti ce ne sono? Credo sono questi due. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Quindi... Brucia giù! Corri, 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 Lara! Vai, vai, vai! Sarta! Che? Ah, ok, vai, vai! Aspetta, lì si è bruciato tutto! Eh? Lo vi studi lì lì ho? Il diario di un certo Nicolai, uno dei naufraghi presenti sull'isola, accenna a Padre Mattias. Sarà lo stesso Mattias che ho incontrato io? Udazzi, qui si parla sempre di un certo Mattias, Padre Mattias, Nonno Mattias. Lì c'è qualcosa da bruciare. Cioè, forse sarà qualcosa di importantissimo questo Mattias. Ma non lo so sinceramente. E non mi ha fatto idea, forse non voglio neanche sapere. Vabbè, sì, stavo io sapendo. Però, dai. Bianchi. Omodo. Ok, qua. Cosa? Ora. Falta! Ok. Ah, qui c'è qualcosa, una relique. Ok. A me non mi interessa se voglio appartenere a una popolana o una nobidonna, ma va bene direi. Se me lo volevi proprio dire. Ok. Saliamo qui e poi ci fermiamo. Ok? Vedo? Sì, dobbiamo salire qui. Quindi saliamo qui e poi ci fermiamo. Però vorrei fare una cosa, guardate. Un video per faccia. Per farvi vedere un po' di più sottotitoli, perché così sono più al centro. Ok. Sì, 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 sì. Ah! No, no. Pensavo che il capitolo si faceva male. Ok. Non asciutto niente. Speriamo di non incontrare nessun altro quando finiremo di salire qui, no? Ok. 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 Ci sono gli spari. Volete vedere chi sta sparando? Un solari? Oppure qualcos'altro? Beh. Oppure anche io il nostro amico. Indentemente furzi e arrotti. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao! Con i Meggraft, eh! Ah! Ah!